Oggi vi voglio parlare dell'uso del digitale all'interno della cosiddetta lezione partecipata. Ho detto in altri video che sono diversi i momenti didattici, ci sono sicuramente momenti di lezione di carattere frontale, la cosiddetta lezione cattedratica, ci sono momenti di lezione più partecipata da parte degli studenti, ci sono sicuramente momenti di lavoro di gruppo, di esercitazione, di lavoro in laboratorio, ogni insegnante articola diversamente questi vari momenti. Quando parlo di lezione partecipata parlo ovviamente di una lezione, quindi di un momento in cui è l'insegnante a condurre il gioco, diversamente da quello che succede nei momenti di laboratorio, di lavoro di gruppo, di ricerca e così via. È una lezione, l'insegnante conduce il gioco, quindi segue un percorso sostanzialmente preordinato e di cui è possibilmente anche prefissato i tempi, ma agli studenti è chiesto di svolgere un ruolo più attivo di quello che svolgono in una invece lezione cattedratica in cui la richiesta nei loro confronti è semplicemente quella di stare attenti, di prendere eventualmente degli appunti. Benissimo, come nella lezione frontale il docente spiega, gli studenti ascoltano, prendono appunti, fanno domande e quindi se parliamo di utilizzo del digitale nella lezione, l'insegnante si troverà ad usare la LIM, ad usare computer e videoproiettore, a usare eventualmente una connessione internet per mostrare alla LIM delle cose esterne alla classe, un museo, una simulazione che ha preparato quant'altro. Gli studenti, se usano le tecnologie digitali, si troveranno a usare cellulare, tablet e ambienti web per prendere appunti testuali, ma anche per prendere appunti sotto forma di audio, video e fotografie. Avvengono le stesse cose di una lezione frontale, ma con un maggior focus sul coinvolgimento diretto dagli studenti, sulla loro maggior partecipazione attiva. Perché questo focus sul coinvolgimento? Può essere semplicemente per tenere gli studenti svegli durante la lezione, può essere per tenerli connessi, collegati con quello che l'insegnante sta dicendo, può essere per fare delle operazioni che stimolino il loro interesse rispetto a quello che l'insegnante dirà subito dopo, oppure per fargli riflettere e ragionare su quello che l'insegnante ha appena detto. O ancora può essere, come nell'immagine che mostravo prima, degli insegnanti che scrivono anche loro alla lavagna per elaborare insieme, per costruire insieme dei momenti di conoscenza, di elaborazione dell'informazione, di definizione di nuova informazione. Benissimo, questo lo si può fare sicuramente anche senza le tecnologie digitali. Il classico che l'insegnante chiede a uno studente cosa stavo dicendo, oppure che chiede agli studenti cosa ne pensate, cosa potrebbe succedere in questo momento, come si potrebbe essere diretta quella retta, oppure fare domande tipo ma voi sapete che cosa succede se... e così via. Sicuramente si può fare tutto questo, mantenere la partecipazione degli studenti in una classe tradizionale senza delle tecnologie. Ma che cosa possono allora aggiungere le tecnologie digitali? Quando parlo di tecnologie digitali penso a studenti che abbiano in mano un cellulare o un tablet e penso a una classe in cui ci sia una linea. A proposito dei cellulari, varie volte i colleghi mi fanno l'osservazione ma l'uso del cellulare in classe è vietato. Bene, diciamo che questo è stato ormai assolutamente sdoganato. L'uso del cellulare per partecipare alle attività didattiche, per fare delle attività didattiche è qualcosa di non solo consentito ma consigliato anche dal Ministro. Bene, che cosa ci si può fare allora con gli studenti forniti di queste tecnologie? Cosa possono fare gli studenti con queste tecnologie per partecipare alla lezione? Sicuramente delle attività di ricerca. L'insegnante può a un certo punto della lezione dire ma cercatemi delle informazioni su Cromwell piuttosto che cercate che cosa è successo in questa data oppure cercate su questo evento quando è successo. Può dirlo perché è un'informazione che lui in quel momento non ha oppure perché vuole che gli studenti siano attivi nel ricercare questa informazione che lui potrebbe dare ma agganciando meno gli studenti alla lezione. Ho segnato diversamente la ricerca in questi item per indicare questa sua peculiarità e per indicare invece come gli altri item, quelli che ho indicato in verde, siano più di interazione con la LIM. Dico che si possono usare questi dispositivi per fare dei sondaggi rapidi, dei quiz, del brainstorming, della raccolta dati. Cosa intendo con sondaggi rapidi? Il cosa ne pensate di? Proponendo alcune opzioni oppure cosa succede secondo voi se cambio il coefficiente nell'equazione di quella parabola? Lo studente di fronte a una domanda deve riconnettersi se si era scollegato da quello che diceva l'insegnante deve riflettere per cercare quale fra quelle offerte è la soluzione giusta secondo lui. Il sondaggio può essere cosa ne pensate, può essere cosa succederebbe, può essere di tanti altri tipi cosa avete studiato fino adesso. Il quiz è in qualche modo come il sondaggio ma legato piuttosto a una risposta giusta. Qual è la risposta giusta? Nel sondaggio non necessariamente c'è una risposta giusta, nel quiz, nel test c'è una giusta e ce ne sono sbagliate. Si può usare il test inizialmente ma lo si può usare durante la lezione dopo che un argomento è stato esposto e quindi chi è stato attento dovrebbe avere la risposta o chi ha compreso effettivamente dovrebbe avere la risposta giusta. Questo è un modo di controllare da parte dell'insegnante quello che stanno acquisendo gli studenti ma anche da parte del singolo studente di controllare il suo allineamento con quello che viene e che è stato spiegato. Il brainstorming è in qualche modo qualcosa come il sondaggio, acquisire una serie di opinioni ma molto più libera di quello che è il sondaggio che propone diverse opzioni. Capita quando l'insegnante chiede agli studenti delle cose e loro sono liberi di rispondere. La raccolta dati può essere invece l'acquisizione di una serie di informazioni da parte degli studenti. Bene, vediamo alcuni esempi di software ambienti web che ci permettono di fare queste cose. Per esempio CAUT. CAUT è un software molto semplice da usare, molto semplice da parte dell'insegnante che deve preparare i sondaggi o i test e è ancora più semplice da parte degli studenti che devono usare il loro cellulare o tablet come rispondetori. L'insegnante fa apparire delle domande alla lavagna, gli studenti rispondono, si visualizzano le diverse risposte. Può essere appunto un modo per fare un sondaggio, un modo per fare un test, un modo per iniziare ad affrontare un argomento. Qualcosa di simile è Mentimeter. Mentimeter permette di preparare delle presentazioni in cui ci sono slide su cui l'insegnante parla e altre slide che invece sono direttamente legate al sondaggio o al quiz da fare agli studenti che, come nel caso di CAUT, si connettono usando i loro dispositivi come risponditori. un altro esempio di software che si può usare sono le Google Forms, i moduli Google in cui l'insegnante può preparare un sondaggio, può preparare un quiz, può preparare delle domande per acquisire dei dati, per esempio l'email o il numero di telefono dello studente, perché magari deve andare a fare una città scolastica e deve raccogliere questi dati per utilizzarli. Il modulo Google permette agli studenti di collegarsi immediatamente all'indirizzo che l'insegnante gli dà e fornire in tempo reale le risposte, appunto, semplicemente dei dati da raccogliere oppure risposte a un sondaggio oppure risposte a un quiz. I risultati possono essere subito e dopo immediatamente visualizzati alla LIM sul proiettore e quindi essere discursi con la classe. Un altro strumento che mi sembra molto interessante è Padlet. Padlet può servire per costruire dei percorsi didattici, ma può essere utilizzato semplicemente come muro su cui gli studenti attaccano il loro post-it con una serie di commenti. Rispetto al sondaggio, che ha delle risposte prefissate, qui invece si acquisiscono i pareri degli studenti. può essere appunto il dove vi interesserebbe andare in gita scolastica, che cosa volete vedere quando andremo a visitare il Museo della Scienza oppure che cosa avete visto di interessante nella visita che abbiamo fatto oppure semplicemente secondo voi quali sono i punti salienti della lezione che abbiamo fatto, qual è il vostro commento su un film che abbiamo visto e così via. Ogni studente scrive il suo commento, questo compare in tempo reale con il nome dello studente su questo tabellone che viene proiettato alla NIM e quindi si può usare questi come risultati su cui avviare una discussione. Bene, io ho detto che l'insegnante può proporre queste cose alla LIM e se si dà un indirizzo allo studente sicuramente è più comodo darglielo attraverso un QR code, con un generatore di QR code si può generarlo molto velocemente oppure darlo come indirizzo abbreviato per evitare quella che può essere la perdita di tempo di stare a digitare un indirizzo complicato. Tutte queste operazioni per rendere la lezione più vivace, più interattiva, per stimolare gli studenti a partecipare e quindi far sì che le cose che vengono dette si fissino nella loro testa, che loro le rielaborino e quindi le comprendano effettivamente, tutto questo può essere fatto anche senza il digitale. Qual è il valore aggiunto del digitale? Beh, quando abbiamo parlato degli studenti che possono cercare una serie di informazioni in tempo reale in internet ci può dare un accesso a risorse esterne alla classe, non semplicemente il cercate sul libro, ma cercate in tutto il mondo e questo ha sicuramente un importante valore. Ma per quanto riguarda gli altri punti su cui mi sono fermato, i sondaggi, i quiz, il brainstorming e così via, il valore aggiunto del digitale mi sembra sia duplice. Per un verso, quello che i risultati rimangono, di un veloce indagine in classe, cosa pensate di, gli studenti dicono la loro ma poi si perde, a meno che vengano presi appunti su quello che dice ciascuno, qui tutto rimane disponibile, quindi può essere rivisto, può essere riutilizzato nella lezione successiva, può essere rivisto a casa dagli studenti nel momento in cui studiano, elaborano, fanno delle cose. Quindi questo fatto che i risultati rimangono, siano riutilizzabili ripetutamente, magari a mesi di distanza, ha sicuramente un valore. L'altro valore è che in questo modo tutti gli studenti sono chiamati a rispondere. Quando fate delle domande in classe, gli studenti che rispondono spesso e volentieri sono due o tre e gli altri si possono anche distrarre oppure non sono abbastanza veloci, non possono dire la loro e così via. Con il cellulare come risponditore per scegliere fra delle opzioni oppure per scrivere una propria opinione, tutti gli studenti sono direttamente direttamente stimolati a farli, quindi la partecipazione diventa effettivamente di tutti con il valore che la partecipazione ha ai fini dell'apprendimento. Ecco, questo è tutto per questo argomento e ci vediamo eventualmente su un prossimo video. Grazie per la partecipazione.